Anna B! Ciao tesoro! Che bello vederti! Grazie, anche per me! Hai saputo che sono venuta con voi in agenzia? Sì! Mariolina va così corteggiato! Ah sì, bello, bello! Insomma, facciamo il taglio coreano? Sai che vado in Corea? Vado a fare il film di Kikyu Bok! Ah sì, sì, è vero, l'ho sentito dire! Mamma mia, sono così emozionata! Sono stanca da morire! Guarda, non ti posso dire cosa non ho fatto in questi giorni! Ma no, immagino, immagino! Però, meno male, domani in business faccio tutta una dormita! 15 ore e 45 minuti! Ah sì sì, io dormo benissimo in aereo! Che bello! Anche se quella è una tratta un pochino turbolenta, sai? Perché ci sono delle termiche proprio sopra l'India, che pom! Sei informatissima, eh! Comunque a me le turbulenze mi conciliano, insomma, non mi culano! Che culo! Che culo!